Nel Torinese sono più di 31.000 le imprese straniere, una crescita del 38% negli ultimi dieci anni. La Camera di Commercio rinnova il supporto. Ristorazione, commercio, edilizia sono più di 31.000 e sono in continua crescita le imprese straniere. Nel Torinese è una sfida alla loro tutt'altro che semplice a tendere una mano. La Camera di Commercio, Maria Valeria Vendemmia. Il percorso è durato credo circa un mesettino, un mese e mezzo. C'erano dei professionisti che mi hanno seguito per creare una pagina Instagram, per il sito web, per redigere un business plan. Redouane Moafide è uno degli imprenditori supportati dal progetto Futur, il programma del Ministero del Lavoro promosso da Union Camere, che assiste gli stranieri che vogliono avviare un'impresa in Italia, avviato in via sperimentale nel 2019 e ora la seconda edizione con l'obiettivo di sostenere e accompagnare la nascita di nuove imprese a titolarità straniera o mista. La immigrazione, secondo me, deve passare da un semplice problema da gestire, in realtà è un'opportunità per la crescita del territorio anche a livello economico. Un sistema economico che ne ha sempre più bisogno, dal momento che le imprese straniere, 31.000 nel torinese, il 14% del totale, sono quelle che crescono di più, concentrate soprattutto nei settori dell'edilizia e del commercio. Sono aumentate del 38% negli ultimi 10 anni, una crescita costante che conta numeri significativi, maggiormente tra Romania e Marocco, ma anche da Cina e Albania. Il programma, nella prima edizione, ha accompagnato 57 progetti di impresa e avviato già una decina di aziende, come quella di Gerardo Sanchez, che raggiungiamo nel suo negozio fabbrica nel centro di Torino. Da una settimana ha lasciato il lavoro da chef per intraprendere questa avventura. All'inizio era un sogno, quindi ho creato la prima salsa del progetto, creare delle salse che possano trasmettere un po' la cultura mexicana del peperoncino fuori dal Messico. Grazie.